Se hai fatto la classificazione dei punti del terreno in una nuvola di punti è molto probabile che, dipende molto poi anche da che cosa è la nuvola di punti su cui hai lavorato, cioè le caratteristiche e l'ambito che è stato descritto nel modello tridimensionale, ti dicevo che è molto probabile che ci siano nei buchi della nuvola di punti del terreno, possono essere edifici che sono stati rimossi e quindi hanno lasciato un buco, possono essere alberi che sono stati rimossi e quindi hanno lasciato il buco, macchine parcheggiate, insomma è probabile. Che ci possono essere dei buchi, questi buchi possono essere anche abbastanza consistenti e magari se vuoi andare a creare un modello digitale di elevazione che a quel punto se utilizzi i punti del terreno è un DTM potresti avere dei problemi perché ci sono delle zone che non hanno informazioni e il software o interpola, dipende dal software che usi, oppure si ferma e dici io non riesco ad andare avanti perché non interpolo e quindi non ho informazioni per creare il modello digitale di elevazione, il DTM. In questo video utilizzo il LIDAR 360, sto sempre dentro un percorso che sto facendo di elaborazione di una nuvola di punti LIDAR, classificazione, elaborazione e classificazione di una nuvola di punti LIDAR da acquisizione LIDAR da drone insieme ai ragazzi di LIDAR Italia e ti faccio vedere che cosa vuol dire creare un DTM da una nuvola di punti utilizzando l'informazione del terreno con dei buchi e come puoi riempire questi buchi per creare un DTM che sia un continuo. Andiamo dentro LIDAR 360, questa è la nuvola di punti, io ho importato per brevità per gestire un file un pochino più leggero soltanto i punti del terreno che sono stati classificati a valle dell'elaborazione completa. Quindi partiamo da qua, ci sono tutta un'altra serie di robe qua sopra, tutta la vegetazione, questa è la nuvola di punti che in realtà è già una sgrossatura. Sono solo punti del terreno, se vado a chiedere al software di farmi vedere le classi vedo tutto arancione perché è tutto terreno, ti metto l'EDL attivo in modo da vederlo un po' meglio. Però è evidente che ci sono dei buchi, quindi ci sono delle parti che sono bucate e se io vado a chiedere, chiedo al software di farmi vedere il DTM, di crearmi un DTM, il DTM lo creo, based on point cloud, allora nel modello terreno, ok queste sono operazioni che faccio e anche credo nel prossimo video, in cui attingerò ai contenuti del modulo terreno che è il modulo specifico di LIDAR 360 che ti permette di fare per la gestione dei dati del terreno. Based on point cloud, DSM, è un controintuitivo, in realtà avrebbe dovuto esserci un DSM per il modello digitale della superficie generale e un DTM per quello che è il DSM. Comunque DSM, scegli quella che è la risoluzione, magari facciamo una risoluzione di un metro per un metro, e scegli la classe ed è qua che introduci la possibilità di scegliere soltanto una classe di punti per generare il modello digitale di elevazione, quindi se scelgo la classe 2, che so appartenere al terreno, utilizzerò soltanto quei punti per creare il modello digitale di elevazione, che sarà quindi un DTM. Gli do ok, qui c'è tutta una denominazione che si porta dietro, che c'è tutta praticamente la storia di quelle che sono state le elaborazioni sulla nuvola di punti, posso chiamarlo DSM oppure DSM01, è un formato TIFF, gli do ok, lui mi chiede vuoi aggiungere il dato al progetto, gli dico sì, aggiunge il dato al progetto e allora va abbastanza bene, quindi ha creato un DSM tutto sommato abbastanza continuo, perché le informazioni dei punti della nuvola tutto sommato sono abbastanza buone, dei punti del terreno sono abbastanza buone in questa zona, però c'è qualcosa che manca, ci sono delle informazioni che mancano e quindi il DSM, che per lui è un DTM, non è riuscito a essere completo, quindi mi rimane un buco, oppure potrebbe, ok, in realtà ci sono buchi anche qua, dove i punti sono un po' meno, dalle altre parti tutto sommato va abbastanza bene. Proviamo a concentrarci su questa parte qua e proviamo a vedere se c'è un modo per tirare fuori qualche informazione per riempire questo dato. Allora ci viene in soccorso un altro strumento che fa sempre parte del modulo Terrain che adesso ti faccio vedere, però per farti vedere questa roba qua prima devo togliere, o meglio non è che devo togliere, potrei utilizzare delle viste diverse, dei viewer diversi, però faccio prima a togliere e poi eventualmente a riportarlo dentro dopo. Tolgo il raster, perché l'ho tolto? Perché avendo un raster all'interno di questa vista, lui ha bloccato la vista alla vista 2D e quindi non mi faceva fare queste cose qua, non mi faceva fare le rotazioni. Allora lo strumento è dentro il modulo Terrain e ci arrivo utilizzando il tool Classification Editor e poi c'è questo box edit. Allora per prima cosa devo utilizzare la partizione, che cos'è la partizione? È un modo che il software ha per snellirsi questo processo, perché altrimenti se il modello è molto grande, ora io qua ho volutamente portato dentro pochi punti per gestire meglio la velocità e quindi evitare incagliamenti nella registrazione, però se il modello è molto grande le cose possono essere un po' complicate. Ti faccio vedere come funziona la partition. Tile by Width, oppure puoi fare una suddivisione in relazione alla scala, oppure se hai un poligono lui lo lavora come perimetro di subdivisione, di divisione. Credo che Tile by Width, cioè dividi per larghezza di queste mattonelle, sia la soluzione migliore e ti richiede il software di mettere una larghezza in metri di una cella quadrata che verrà utilizzata per dividere la nuvola di punti. Ad esempio mettiamo 200. Con un eventuale buffer, cioè un 10 metri che sforeranno nella piastrella successiva. Dai ok. Ed ecco che lui ti fa vedere le piastrelle, 9 piastrelle in cui ha diviso questo modello. Come vedi qua c'è la prima, basso a sinistra. Puoi scorrere tra piastrella a piastrella utilizzando questo menu che ti permette proprio di muoverti. Quindi Pick Up Tile, quindi vai a quella superiore, oppure puoi andare a quella ancora superiore. Entriamo nella zona in cui mi sembra che ci sia il buco nel modello digitale di elevazione. Credo che sia qua il buco, forse no. Proviamo a spostarci un po' a destra, quindi qua te ne puoi andare a fare un bel giro sulla tua nuvola di punti. E poi puoi scendere, insomma puoi andarti a prendere le parti che ti interessano. Penso che sia qua a sinistra. Proprio perché... Ah no è qua, eccolo qua. Proprio perché lavorando per pezzi lui ti escluda dal calcolo tutto quello che non vedi in questo momento e quindi è molto più veloce. Lo fa per permetterti di gestire o per permettersi a lui di gestire meglio le risorse. A questo punto c'è un'opzione che ti permette di... C'è un comando che si chiama simulate ground points, cioè prova a risimulare dei punti del terreno. Però finché questa roba funzioni devi creare un modello digitale TIN. Ne abbiamo già parlato del TIN, è un modello triangolare. Lo crei con questo pulsante dentro il classification editor utilizzando i punti del terreno. È molto veloce la cosa. e lui va andato a ricrearsi una informazione tridimensionale prendendo il dato in suo possesso, ossia questi punti del terreno. Però siccome vedi che qua sono i punti abbastanza radi, allora c'è la possibilità di ricrearli questi punti, provare a ricrearli. Ho detto che questa roba funzioni sempre per bene, dipende un po' dal tipo di nuvole di punti che hai. Allora, i punti del terreno li puoi creare adesso utilizzando questo comando che si è sbloccato che è simulate ground point. Ti si apre questa maschera e lui ti dice dimmi il metodo che vuoi utilizzare by reference trees, cioè in relazione a degli alberi ma qui non ho alberi perché la nuvola di punti è stata... i punti del terreno li ho estratti e li ho portati dentro da soli. Quindi l'altra opzione che scelgo è by neighbor ground point, cioè dai punti del terreno vicini. Questo cosa vuol dire? Che fa lui una sorta di interpolazione, però ricostruendo le informazioni all'interno mi dà la possibilità successivamente di colmare quel buco che era presente dentro il modello digitale del terreno che ho fatto precedentemente e quindi crearmi un continuo. Scegli un sampling interval, cioè quanto vuoi che siano distanti i nuovi punti del terreno che lui creerà. Possiamo fare un metro, possiamo fare due metri. È lo stesso, dipende... è lo stesso no, dipende da... da qual è l'output del DTM che vuoi avere e da quanto già sono densi i punti del terreno nella tua nuvola di punti. Smooth iterations, fa una serie di iterazioni per smussare questo nuovo dato. Io lascerei invariato il numero 10 che ha il valore di default, però nulla ti vieta di cambiare questo parametro. E allora c'è questo pulsante Select Area e tu selezioni, incomincia a selezionare l'area all'interno della quale vuoi che lui faccia il calcolo per riempire i buchi che sono presenti nella nuvola di punti e nel modello digitale di elevazione. Ora io vado un po' transchan. Puoi lavorare, ti consiglio di lavorare per aree un po' più piccole. Io ti faccio vedere soltanto il concetto e lo strumento che c'è a disposizione e spero che tu lo possa fare tu se utilizzi l'IDA360 per applicartelo alle tue aree, lavorando per step un po' più piccoli, secondo me. Come vedi, l'area viene disegnata sia nel modello di destra che nel modello di sinistra. doppio clic, lui ha riempito di buchi questa parte andando a creare qualche craterino qui nel modello tridimensionale perché evidentemente le informazioni nel suo possesso non erano poi moltissime. Tasto destro su Ground Point scusa, non lo faccio ancora tasto destro su Ground Point si, faccio tasto destro su Ground Point e gli dico salva. Nel momento in cui gli dico salva tu non lo vedi, io ho un altro monitor a destra dove mi ha salvato un file DXF quindi lui mi ha salvato un file vettoriale la nuvola di punti non è stata in nessun modo contaminata cioè quello che vedi qua è una sorta di modello tridimensionale a triangoli temporaneo che sarebbe stato calcolato che verrebbe calcolato utilizzando anche questi punti aggiuntivi ma i punti non sono in nessun modo intervenuti nella nuvola di punti. Gli do exit quando ho finito gli dico exit riaccendo la nuvola e vedo che qua dentro non c'è assolutamente niente quindi i punti della nuvola non sono stati in nessun modo cambiati tuttavia ho un file vettoriale adesso se vuoi te lo prendo lo porto all'interno eccolo qua il file vettoriale che mi va a riempire questi buchi della nuvola e come vedi va a riempire questa parte che era effettivamente bucata lo tolgo perché effettivamente di fatto è soltanto una visualizzazione però mi serve a questo punto perché torno nel modulo che mi permette di creare il modello digitale di elevazione based on point cloud dsm lascio tutto quanto invariato ma metto la spunta metto la spunta su terrain featured objects cioè oggetti caratteristici del terreno e vado a prendere quell'elemento che è questo file dxf che ha appena creato e che è stato creato con lo scopo di ricreare dei punti del terreno mancanti gli do ok lui mi chiede vuoi aggiungere il data progetto gli do ok ed ecco che lui mi ha creato questo modello digitale di elevazione questo nuovo modello digitale di elevazione dove qui dentro ha riempito i buchi vado a prendere il primo modello che avevo creato e lo riporto dentro ce l'ho sempre nell'altro monitor eccolo qua qua si vede molto bene la differenza questo è il modello digitale di elevazione del terreno perché abbiamo utilizzato i punti che è stato creato con la nuvola di punti dei terreno grezza chiamiamola così senza aver fatto il nostro lavoro di riempimento dei buchi e questo è il modello digitale di elevazione riempito con le informazioni del terreno a partire da quel processo di infittimento di colmamento di riempimento di quel buco utilizzando quel dato vettoriale vado avanti ora non lo faccio in questo video però le cose devono essere fatte per tutta la nuvola di punti quindi vai avanti in maniera analoga quindi ti ricrei il ti puoi ricreare il tiling ti faccio vedere soltanto una cosa visto che questo modello non è molto pesante quindi ritorno in classification editor puoi utilizzare un tiling io ho messo questo numero perché so di per certo che va bene puoi utilizzare un'unica piastrella ed eccola qua la piastrella 0 se il modello non è troppo pesante non devi suddividerlo e quindi riesci a lavorare agevolmente utilizzando non non spacchettando il modello però il modello è utile spacchettarlo quando è parecchio grande e quindi vai avanti ti ricrei ti rindividui l'area che vuoi lavorare e riassegni quando crei il modello digitale di elevazione il file vettoriale che hai ricreato quindi che ti sei generato con i punti è chiaro che deve esserci un solo file vettoriale quindi quel file vettoriale deve contenere tutti i punti che colmano i buchi nella creazione del terreno e che quindi vengono presi quei punti in considerazione quando viene creato il modello digitale di elevazione che in questo caso è il modello digitale del terreno spero di averti dato un'informazione utile è interessante questo strumento perché ti permette di stare dentro l'IDAR 360 di lavorare dentro l'IDAR 360 ma di sopperire agli inevitabili tra virgolette problemi che possono esserci durante una gestione delle classi di una nuvola di punti soprattutto la classe del terreno in presenza di elementi che il terreno non nascondono e quindi in questo modo riesci a riempire le lacune devi stare attento perché questa è di fatto un'interpretazione che fa software e quindi come ogni interpretazione semi-automatica può portarsi dietro degli errori e quindi se lì dentro dove vai a riempire il buco ci sono delle cose delle emergenze particolari e allora non è così corretto riempirlo e andrebbero indagate localmente ma questa è un'altra storia che fa parte di tutta la parte di indagini del territorio analisi dell'ambiente e analisi di dettaglio di quello che stai facendo grazie per aver visto questo video mi sono un po' incartato alla fine spero che possa essere stato utile ci vediamo al prossimo ciao